bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le ultime novità di fortnite delle ultime 24 ore le trovate in questi pochi minuti video veramente importante perché parliamo della riscossione gratuita del nuovo piccone quello nuovo per modo di dire il piccone oggi della season 1 ora vi spiego tutto vediamo anche in anteprima alcuni outfit quello di laklan ghost rider il bundle di joker e poi parliamo di tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e non poteva che essere il nuovo piccone in arrivo il throwback axe che cos'è praticamente è una rivisitazione del piccone della season 1 che fortnite ha deciso di dare gratuitamente a tutti i propri giocatori per festeggiare l'arrivo di fortnite sulle nuove console che verranno rilasciate settimana prossima la ps5 e la xbox series x e s per tutti gli utenti da pc il piccone arriverà nello shop e dovrete riscattarlo senza pagare nulla è gratis per gli utenti di ps4 invece vi invito ad andare nel vostro store e sicuramente troverete una schermata molto simile a questa dove potrete fare un pre order anche qui a titolo gratuito come vedete c'è scritto free se non vi trovate voi cercate throwback axe che è il nome appunto di questo piccone e sicuramente vi verrà data la possibilità di fare il pre order e quindi di ottenere il piccone questa è la schermata che apparirà una volta che il piccone verrà riscattato e per quanto riguarda invece gli altri ragazzi questo è ciò che apparirà da pc quindi come vedete a costo completamente zero potrete fare l'acquisto e quindi inserire nel vostro armadietto uno dei pezzi diciamo più oggi in assoluto di fortnite quindi ragazzi tanta tanta roba per questo piccone gratuito e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un nuovo un nuovo arrivo su fortnite una nuova copertura che è ispirata a van gogh there's an upcoming van grog rap se voi non lo sapete ovviamente c'è scritto van gogh è uno degli artisti ovviamente più famosi del mondo la copertura dovrebbe essere qualcosa di simile all'immagine che stiamo vedendo quindi a uno dei suoi dipinti e devo dire che penso che sia semplicemente un omaggio appunto all'artista e non c'entri assolutamente niente con una possibile concatenazione nella storyline quindi aspettiamo di vederla ovviamente in game o almeno nei leaks perché non è presente nessuna immagine purtroppo per adesso e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi come vi anticipavo parlavamo anche della skin di lachlan tra poco arriverà il torneo di lachlan il frenzi pickaxe quindi il piccone frenetico chiamato così se vi piazzate bene potrete ottenere tutto il suo set in anticipo e nel caso non l'aveste ancora visto sbam eccolo qua ragazzi il set di lachlan in anteprima la sua skin che vi ricordo ha anche una variante se non ricordo male un pochettino più gialla l'altra l'altra variante arriva anche con il suo backpack che non è altro che un fulmine come vedete che gli rimane dietro sulla schiena carino niente di eccezionale ma comunque carino il suo doppio piccone che è anche qui sempre con un fulmine il pvr slice verse quindi due asce che vanno un pochettino a richiamare anche i fulmini e per finire la sua emote dedicata che richiama un pochettino quella che già abbiamo in game ma anche qua molto molto carino quindi mi raccomando in bocca al lupo a tutti quelli che vogliono partecipare e cercate di ottenere il set di lachlan ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono notizie anche per quello che riguarda il nuovo autobus della battaglia abbiamo visto che dalla patch 14.40 è arrivato anche la quella che abbiamo scaricato la 14.50 forse quella che abbiamo scaricato due giorni fa l'autobus è cambiato ed è diventato come quello che abbiamo visto al magazzino di Tony queste immagini invece ragazzi fanno vedere come ci sarà un nuovo upgrade dell'autobus della battaglia e questo è anche una figata da pensare per quello che riguarda la storyline perché non è che Tony Tony Stark ovviamente sta cercando di modificare l'autobus per fargli raggiungere ad esempio delle mete spazio temporali un velocissimo video ragazzi pochi secondi per farvi vedere come sarà in game l'autobus ed eccolo qua infatti come vedete la differenza rimane tutta nella parte sopra sinceramente a me sembra ragazzi che l'autobus stia piano piano prendendo i colori e la forma della corazza di Tony anche qua ovviamente staremo a vedere non appena si saprà qualcosa di più e vi ricordo anche una cosa molto importante il nuovo set le nuove skin esclusive per i possessori di PS5 la prima è Cloud Striker e la seconda ragazzi insieme al suo backpack ovviamente Elevation il nome del backpack e la seconda è Indigo Q1 ne abbiamo anche un'altra ma non siamo sicuri che possa far parte del bundle di PS5 e devo dire che queste skin hanno assolutamente le colorazioni giuste per poter rientrare nel set PlayStation questo vorrebbe dire che tutti i nuovi possessori di PS5 potranno ottenere gratuitamente questo nuovo bundle quindi ragazzi tanta tanta roba andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché stanno per arrivare in game parlo del battle royale due nuove armi ne avevamo viste qualcuna con l'ultimo aggiornamento non ci sono ancora purtroppo le immagini ma sappiamo che si chiameranno Heavey Mortar quindi mortaio pesante e Lasing Device in realtà il Lasing Device lo avevamo intravisto è una specie di mitra futuristico che dovrebbe far parte dell'evento di Galactus quindi non sappiamo se sia proprio l'arma di Galactus in sé oppure se ci sarà qualcun altro che accompagnerà il divoratore di mondi mentre per quanto riguarda Heavey Mortar non sappiamo assolutamente nulla staremo a vedere ma abbiamo la conferma che ne sono arrivate due andiamo avanti a parlare dell'ultimo argomento di oggi perché You can't live in fear il tweet ufficiale di Fortnite che ci preannuncia l'arrivo della skin di Ghost Rider ragazzi l'anti-eroe la stiamo vedendo in questo momento come sarà direttamente in game devo dire che è tanta tanta roba questo Ghost Rider che arriva con un full set dove il suo backpack non è altro che una specie di meteorite di lava incatenato il piccone è una doppia catena anch'essa incatenata ma fiore all'occhiello di questo set il deltaplano come vedete ragazzi una motocicletta tipo Harley Davidson con il teschio davanti che spara fiamme da dietro dico che qualcosa di più figo non potevano farlo insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho date vi ringrazio tanto per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao